Ciao, buonasera a tutti e buonasera a tutte. Prima di cena volevo dare un'occhiata a questo e discutere con voi di questo tema, ovvero dell'utero in affitto, la maternità surrogata. E Rocella dice che è utero in affitto, è un mercato per bambini. Io devo assolutamente concordare con Eugenia. Eugenia Rocella, ministro della famiglia, natalità e pari opportunità. Devo concordare con lei perché ritengo che la maternità surrogata non sia altro che uno sfruttare prendendo in affitto l'utero delle donne. Ed è una cosa, a mio parere, molto triste. Molto triste che di fatto è, paradossalmente, promossa da quella sinistra, da quel centro-sinistra, quei falsi monisti che parlano tanto dei diritti delle donne, parlano tanto, festeggiano l'8 marzo, parlano dei diritti delle donne e tutto, poi permettono che delle persone prendano in affitto i loro uteri. È una compravendita di bambini, di fatto, con un affitto di una donna, di una donna per un periodo di nove mesi, se non di più, perché c'è da fare anche tutta la preparazione prima. Quindi è un vero e proprio affitto, cioè prendere in affitto una donna è l'utero di una donna. Per me è una cosa di una gravità e di una tristezza assoluta. Contro natura, contro natura, cioè proprio contro natura, palesemente contro natura. Quindi da cristiano non posso essere concordo in questo, neanche da padre di famiglia, neanche da cittadino normale, perché è da persona che rispetta al 100% le donne. Perché prendere in affitto una donna per nove mesi non è tanto diverso della persona che la prende in affitto per qualche ora a scopo sessuale. Per me cambia poco, sinceramente. È sempre uno sfruttare una persona per soldi. Poi pensate, stavo leggendo l'articolo di ADN Cronos, molto interessante, dove il ministro per la famiglia spiega che prendere una donna in affitto, quindi un utero per questa gravidanza, di fatto questa maternità surrogata, può costare anche 100.000 euro. Quindi è una cosa per benestante perché ha i soldi. Quindi i soldi possono permettersi di prendere in affitto le donne, pagarle, sfruttarle per questa cosa e pagargli e comprargli il figlio, quindi con i soldi. La cosa che mi dà più da fare è che alle donne arrivano 10.000 euro. Quindi pensate, su 100.000 euro solo il 10% viene dato a chi presta proprio utero. La maternità surrogata, chiamiamola con il suo vero nome, dice la ministra, c'è ovvero utero in affitto. E metta a fuoco il passaggio di denaro. Bisogna leggere i contratti di maternità surrogata. Si apre un mercato per i bambini per la prima volta nella storia dell'umanità. Ci sono fiere nel mondo, pensate, fiere nel mondo. Ci hanno provato pure a Milano, lo dice il ministro per la famiglia Eugenia Rocella. Sorrido, sorrido, ma il mio sorriso è un sorriso triste. Ed è triste anche per l'algoritmo, perché come vedete stanno totalmente nascondendo la notizia, perché per l'algoritmo, evidentemente per Facebook, per chi gestisce social network, è normale prendere in affitto gli uteri delle persone, delle donne, quando per me non lo è. I figli non si comprano con 100.000 euro, assolutamente. Si comprano con l'amore tra due persone e con la natura che ti supporta in questo amore. Purtroppo delle volte capita di non riuscire. E sì, dopo si adottano i bambini. I bambini che hanno bisogno e che sono tanti, sono tanti i bambini al mondo che hanno bisogno di essere adottati. Per me siamo arrivati veramente, come dite voi Franco, alla frutta. Siamo arrivati alla frutta perché siamo arrivati al punto che gente con i soldi prende delle donne in affitto per un anno, le prende in affitto per farli fare dei figli, comprati con i soldi. Per me è una cosa indegna. Sono schiave, sono schiave che di fatto sono schiave, vere e proprie, che vengono schiavizzate per un anno, alle quali viene dato traprendisi niente. Sui 100.000 euro che pagano questi ricconi, 100.000 euro, solo 10.000 vanno a queste donne, quindi sono veramente delle schiave. Delle schiave in questo caso non del sesso ma prestano il loro utero, semplicemente prestano il loro utero. Cosa di una tristezza incredibile è che Dio intervenga su queste cose, che Dio intervenga perché è la cosa più innaturale che c'è. È una cosa vergognosa, vergognosa. Povero mondo. Sono d'accordo con Venia che dice povero mondo, povero mondo. Io concordo totalmente in questo caso con la ministra della famiglia, natalità, pari opportunità, Eugenia Rocella. Concordo al 100% con lei. Datemi un vostro parere. Sono curioso di capire quale sia il vostro parere. Se anche voi ritenete come la Jline che si debba permettere in tutto il mondo di dare gli uteri in affitto. Intanto l'utero che cos'è? Una parte del corpo. Cosa volete che sia? Dare un utero in affitto. Sfruttare le donne in questo modo. Cosa volete che sia? Non fa niente. È una cosa naturale. Veramente il centro-sinistra è una vergogna per la natura. Una vergogna per la natura. Queste sono cose fuori da normale. Io sono per le cose naturali come dice Elena. Queste cose qua sono contro natura. Satana, Satana mette queste cose. Queste cose sono figlie di Satana. Lo dico. Chi fa queste cose è con Satana al 100%. Non me ne pento di quello che dico. È quello che penso. Potrei dire il contrario a me. Quello che penso sono cose gestite dal diavolo. Non dall'essere umano e non certo da Dio. Ciao a tutti. Vorrei un vostro parere. Ciao a tutte ragazze. Buona serata.